Buonasera a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale. In questi 15 giorni sono successe delle cose, prima lo strascico per quanto riguarda il referendum sull'indipendenza della Catalogna, poi per esempio c'è stato lo sciopero dell'Ilva e è anche importante perché ha coinvolto parecchi lavoratori e per ultimo lo sciopero degli studenti contro la buona scuola, la riforma cosiddetta della buona scuola contro l'alternanza scuola-lavoro ed altro. Mi soffermerò, riprenderò questi tre punti. Primo perché anche nel Veneto, io sono nel Veneto ma il Veneto e la Lombardia, faranno questo referendum per l'indipendenza, diciamo più autonomia di queste regioni, chiedere allo Stato centrale. Bene, dicevo l'altra volta e lo ripeto, per noi proletari, intendo dei lavoratori salariati, lavoratori che vivono solo del proprio salario e quindi non entrano nel meccanismo di valorizzazione del denaro attraverso denaro produzione e denaro maggiorato, non hanno niente a che fare questi lavoratori con queste cose, queste partigianerie di essere indipendenti perché così si spera di avere più briciole che magari ritornano nel nostro caso da Roma e nel caso della Catalogna da Madrid. No, noi non dobbiamo essere partigiani né per l'uno né per l'altro caso. Noi faremo soltanto gli interessi di due fazioni della borghesia, perché chi vuole più indipendenza da una parte, più indipendenza dall'altra, però nessuna borghesia va a dire cambiamo il modo di produzione, non vogliamo più il modo di produzione capitalistica, quindi lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo per la valorizzazione del capitale, ma creiamo una società diversa dove c'è un piano di produzione in armonia con i bisogni dell'uomo e in armonia con l'ambiente, no, nessuno verrà a dirvi questo e quindi essere partigiani, cioè di parte o tifare per una borghesia o per l'altra, vuol dire non fare gli interessi di noi salariati, quindi riprendiamo questi termini del proletariato secondo me. Io vi leggo un attimo in sintesi perché sono molto bravi i compagni di Quinterna, se andate a leggere sullo sito www.quinterna.lab.org, loro fanno delle riunioni settimanali e parlano un po' dei problemi della settimana, ma loro in sintesi riescono bene a spiegare che cos'è questa voglia, fra l'altro, di essere indipendenti, questa voglia che poi ha riempito parecchio i giornali, io qui vedo il giornale di Corriere del 3 ottobre, ma poi viene ripreso anche l'11 ottobre e soprattutto quello del 3 ottobre dice la crisi economica dietro lo scontro europeo e quindi del dissolvimento degli stati e porta anche una piantina di quanti chiedono l'indipendenza, anche la Scozia, ma anche in Italia c'è la Sardegna, la Val d'Osta, la Sicilia eccetera. Lei dice, ricordiamoci che la Catalogna aveva chiesto l'indipendenza, poi il proprio leader della Catalogna ha fatto pigdemont, ha fatto marcia indietro e i compagni scrivono, la piruetta del Presidente Pigdemont non è che l'ennesimo esempio dell'ambiguità politica della piccola borghesia, ecco questo è fondamentale, la piccola borghesia che non vuole da una parte cadere nel proletariato, cioè viene defraudata, vengono meno i propri interessi perché vedono il proprio profitto diminuire e quindi sperano di mantenere le posizioni, come ti vedete, le classi medie, le posizioni maggiori del proletariato da una parte e quindi non vuole essere schiacciata dalla grande borghesia. E' piuttosto che alle dichiarazioni del politico di turno, dobbiamo prestare attenzione alle forze di natura impersonale che operano nel sottosuolo della società. Anche se nell'immediato ciò che percepiamo ci fa credere che le cause scatenanti degli eventi siano le opinioni politiche e i relativi scontri tra individui e gruppi, sappiamo che è la crisi economica a mettere in moto meccanismi strutturali che, come i terremoti, incidono nel profondo del sistema e producono spaccature in superficie. La storia la fanno gli uomini, ma questi sono degli strumenti, di certo non i motori della rivoluzione. Oltre a Spagna, anche in altri paesi d'Europa, si rinvigoriscono spinte indipendentiste, per esempio in Corsica e in Scozia. La ragione è sempre la stessa e riguarda la distribuzione del valore, perché dietro alle parole roboanti di identità, cultura, tradizione, si nasconde l'appetito economico delle mezze classi senza futuro. La piccola borghesia catalana sogna l'indipendenza e per tanto una marcata autonomia in campo fiscale, chiedeva autonomia in campo fiscale come lo chiede il Veneto, la Lombardia, quindi più autonomia fiscale, per cui il valore prodotto rimanga in loco piuttosto che trasferirsi all'autorità centrale. La Catalogna ha un deficit di circa 77 miliardi di euro, che ne fa la più dissestrata delle 17 comunità autonome spagnole. Si tratta di una situazione che ricalca quella internazionale, in cui tutti sono indebitati, dall'amministrazione comunale, alle regioni e ovviamente agli stati. sull'onda delle tensioni sociali numerosi istituti finanziari e aziende che prima avevano sede a Barcellona si sono spostati in altre località della Spagna. Gli interrogativi sono molti. Che cosa accadrà alla Banca di Spagna se la Catalogna si separerà dal resto del paese? Dato che il nuovo Stato dovrà battere moneta propria, quali saranno le ripercussioni interne ed esterne che ne seguiranno, e più in generale, che un esacerbarsi degli indipendentisti potrebbe scatenarsi in effetto domino in tutta l'Europa? Ecco, questa è la situazione. Guardiamo dal punto di vista marxista, la parola indipendenza non ha più alcun senso, poiché ormai anche gli stati più grandi ballano al ritmo del capitale globale. Dallo Shingyang al Kurdistan iracheno, passando per la Catalogna, esistono situazioni di tensione locale che potrebbero sfociare in un conflitto aperto, innalzando il livello del marasma sociale generale. Ad esempio, i kurdi hanno grandi possibilità di costruire, non hanno, attenzione, e lo sta verificando oggi, è venuto fuori proprio sul giornale, quindi non hanno grandi possibilità di costruire il proprio Stato, perché è improbabile che gli americani accettino di lasciare loro lo sfruttamento di pozzi di petrolio di Kirkwood. Del resto, anche questo per quanto riguarda la cosiddetta sovranità, vediamo che tutti gli stati delegano una serie di funzioni a organismi internazionali, Nazioni Unite, Fondo Monetario, Organizzazione per il Commercio, Banca Mondiale, eccetera, o stipulano alleanze strategiche che ne limitano l'agibilità, la NATO, l'EUL, il SEATO, il CSI. Il conto degli stati non arriva a 200, mentre gli organismi internazionali nel mondo sono 1850. Nel filo del tempo, era un giornale che usciva negli anni dopo la guerra, nell'inflazione dello Stato, nel 1949, la nostra corrente e loro si rifanno alla corrente del Partito Comunista Internazionale, che si rifà al Partito Comunista d'Italia del 21, il loro leader di questo gruppo era Amadeo Bordiga, che era il fondatore del Partito Comunista d'Italia del 21, diceva, la nostra corrente è stata molto chiara sull'evoluzione degli stati moderni e cita, i veri grandi sono quelli che alla vastità del territorio loro proprio e alla numerosa popolazione aggiungono una vasta costellazione di satelliti lasciati a giocarellare sulla funzione di sovranità, mentre il loro personale dirigente è sempre più ubriacato, corrotto e comprato dalle case da tè e da cocaina, che sono i grandi convegni e i consigli politici internazionali. Se anche la Catalogna o il Kurdistan o il Tibet diventassero stati nazionali, rientrerebbero comunque nell'orbita economica politica di qualche grande colosso statale, quelli che ricercano la libertà non nella collettività, che è importante, fine della preistoria umana, quello di non essere individualisti ma essere collettivi e quindi il piano di produzione, ma nella indipendenza nazionale sono reazionari, che vogliono irrealisticamente far ritornare indietro la ruota della storia. Nella guerra civile spagnola del 36-39 si sono anticipati i fronti imperialisti che si sarebbero scontrati nella seconda guerra mondiale. Rispetto al conflitto in corso, la frazione esterna della sinistra comunista ha tenuto una posizione netta, anche a costo di subire un'assessione che ne assottigliava gli effetti. Attraverso le riviste Prometeo e Bilan ha denunciato la funzione contro l'evoluzionaria dell'antifascismo, rivendicando integralmente la tesi della tattica del Partito Comunista d'Italia nel 1922. Sono lezioni importanti da ricordare, finché resta in piedi il capitalismo ci saranno sempre spinte nazionalistiche dovute alla concorrenza tra stati e borghesia e tentativi di coinvolgimento dei proletari con le partigianerie. Il compito principale dei comunisti è di mettere in primo piano gli interessi internazionali del proletariato, proletari di tutti i Paesi Uniti, rifiutando di schierarsi con una parte della classe dominante contro l'altra. Ecco, questa è la vera posizione che i comunisti che vogliono gli interessi del proletariato, proletari di tutti i Paesi Uniti dovrebbero ottenere. Il secondo punto è che sembrano scollegati l'ILVA, i salari bassi e l'automazione 4.0. Allora l'ILVA, vediamo, a volte mi fa sorridere come queste organizzazioni sindacali riescano bene a manovrare noi ultimi come lavoratori. Allora ricordiamo un po' la storia, l'ILVA era disastrata economicamente, l'ha assorbita lo Stato che la mette sul mercato. Allora l'ILVA aveva 14 mila dipendenti, però chi ha vinto l'apalto ne vuole solo 10 mila, ricordiamoci che 4 mila comunque sono in cassa integrazione, quindi non lavorano. Nella preaccordo con lo Stato i sindacati accettano la discontinuità contrattuale e sentite un po' cosa dice un sindacalista della UIL, poi vi lascio a voi a dire come andrà a finire questa cosa. Allora dice che questo è Rocco Palombella, che l'intervista esce a Corriere della Sera giovedì 12 ottobre e dice che la domanda è questa, esuberi per 4200 i nuovi contratti con la Job Act per i restanti 10 mila dipendenti. Cosa rispondete alle richieste di Arcelor Mittal? Negli uni e negli altri, dice lui. Ma come pensate che con una cassa integrazione attualmente fino a 4100 dipendenti il nuovo proprietario possa assumerli? Sono già in cassa integrazione questi dice. Io penso che a regime saranno necessari tutti i 14.200 dipendenti. Invece il piano di Ancelotti Miro parte da 9407, nel 2018 scende a 8.480. Domanda. La prima ipotesi, poi il governo, ha chiesto di salire a 10 mila per tutto il periodo. Arcelor ha accettato e risponde il sindacalista. Ma poiché nel 2012 l'ILVA ha prodotto 8.300 miliardi di tonnellate di acciaio con 14.500 addetti, noi pensiamo che non abbiano esserci esuberi. Fino a quale parole? Attenzione adesso, la realtà dei fatti. Ma possono comunque impiegati, domanda, ma saranno comunque impiegati nell'amministrazione straordinaria per l'ambientalizzazione? Risposta. Il rischio è che diventino come i 600 di Genova, in cassa integrazione da 11 anni e mai utilizzati in lavori socialmente utili. Che soluzione proponete? Attento, non dice, adesso non è più intransigente. Che soluzione proponete? Che diventino dipendenti da Marcellor Miltal e non dell'amministrazione straordinaria, prestati all'attività ambientalizzazione. Marcellor, domanda, Marcellor Miltal ha già detto che non andrà oltre 10.000 addetti, però il sindacalista. E allora, poiché noi non accettiamo mai 4.200 esuberi, la soluzione è che se ne faccia carico il governo. Lo fa con l'ambientalizzazione, anche oltre quel periodo, con una legge speciale che permetta il prepensionamento di 4.200 persone con i benefici della legge amianto. Quindi questi 4.200 sono già fuori. Resteranno 10.000 assunti con la Job Act, l'azzeramento delle anzianità. Anche su questo non molleremo un millimetro, eh? Attenzione. Il bando prevedeva, il bando quindi, prevedeva la discontinuità anche economica, tra nuova e vecchia IVA. La discontinuità va bene. Adesso assumerà Arcelot Miltal, ma preservando i diritti acquisiti. L'articolo 18, dall'articolo 18 agli scatti. Chiedete tutto, rischiate di non ottenere nulla però la domanda. Senza l'accordo con i sindacati l'accessione non si formalizza. Nel nostro caso la tutela dell'articolo 18 è anche più necessaria per evitare atti discriminatori. In che senso la domanda? La prima discriminazione si avrebbe se rimanessero i 4.200 esuberi. Il dentro o fuori spetterebbe alla società e questo è inaccettabile. Quindi inaccettabile l'articolo 18 per l'ILVA e tutti gli altri lavoratori che sono stati licenziati e assunti con la Job Act cosa sono? Non sono proletari neanche loro. E tutti quei lavoratori che stanno male, che non riescono ad andare in pensione perché c'è stata la riforma Fornero, perché a loro non adoperare la riforma, quella sull'amianto, andare in pensione prima? No, magari devono farsi il mutuo, eccetera. Ecco, questo è in realtà il sindacato aziendalista, cioè difende la propria fabbrica perché lì ci sono grandi numeri, da una parte, dall'altra invece non difende in generale la classe operaia. Non va a dire, ormai il posto di lavoro è quasi una chimera, non va a dire difendiamo le condizioni di vita della classe lavoratrice in generale. No, difende solo quello. Io personalmente sono un lavoratore e perché devo andare, visto che si deve fare carico allo Stato, perché devo andare a pagare delle tasse perché i lavoratori, gli esuberi, quei lavoratori badano ad andare in pensione prima con la legge a bianco. E io chi sono? Che benefici ne ho? Ecco, queste sono domande che io farei al sindacalista, ma comunque state sicuri che andrà a finire così con un accordo con 4200 esuberi più o meno e un modo che possa salvare un po' questa discontinuità. Ecco, mentre per tutti i resti, gli altri lavoratori, l'articolo 18, perché non si va a dire l'abolizione comunque per tutti della job acta e non soltanto per quelli dell'ILVA deve rimanere. Ecco, finché ci facciamo un po' abbindolare da queste parole formali, poi abbiamo visto come andrà a finire. A fronte di questo c'è un abbassamento dei salari. Sono usciti un paio di articoli l'altro giorno, sia sulla Repubblica e anche sul Corriere mi sembra, sempre sulla Repubblica dell'11 ottobre e del 12 ottobre, dove si parla che la crisi economica la sta pagandoci tutti, i lavoratori, perché a fronte di un aumento della produttività, dell'economia che tira, i salari non aumentano. Bella cosa, ma perché? Questo l'aveva già studiato Carlo Marx nei suoi studi sulla critica alla società capitalistica e qui nel suo fronte di Engels, lavoro salariato e capitale, spiega molto bene, che dice che ogni nuova scoperta scientifica ed ogni nuovo perfezionamento tecnico che cede del suo prodotto giornaliero sul suo costo giornaliero aumenta, cioè si riduce quella parte della giornata di lavoro in cui l'operaio produce l'equivalente del suo salario e si allunga perciò all'altro lato quella parte della giornata in cui egli deve regalare al capitalista il suo lavoro senza essere pagato. Tale è la costruzione economica di tutta la nostra società attuale, solo la classe operaia è quella che produce tutti i valori, perché il valore non è un'altra espressione del lavoro, l'espressione con la quale nella nostra attuale società capitalistica viene indicata la quantità di lavoro socialmente necessaria che è contenuta una merce determinata. Questi valori prodotti dagli operai non appartengono però gli operai. Questi valori essi appartengono ai proprietari delle materie prime, delle macchine, degli strumenti del capitale anticipato e i quali permettono a questi proprietari di comprare la forza lavoro della classe operaia. Di tutta la massa di prodotti da essere fabbricata la classe operaia ne viene restituita solo una parte e come abbiamo visto da tal parte che la classe capitalistica trattiene per sé e o tutta il più deve ancora dividere con la classe dei proprietari fondiari diventa sempre maggiore ad ogni nuova invenzione e ad ogni nuova scoperta, mentre la parte che tocca la classe operaia o aumenta lentamente o in modo insignificante o non aumenta affatto e in talune circostanze può persino diminuire. Ecco spiegato 150 anni fa come gira il capitale e se andiamo a leggere ultimamente c'è proprio parla del boom dell'automazione 4.0. Cos'è l'automazione 4.0? Sono macchine che servono alla produzione, cioè macchine per fabbricare altre macchine per aumentare la capacità produttiva. E Marx divide in due sezioni la produzione, la sezione 1 che riguarda le macchine per produrre, la sezione 2 sono la produzione per i beni di consumo. Bene, lui da dimostrare che la sezione 1, cioè per le macchine, aumenta in modo spaventoso sempre di più, soprattutto nei momenti di crisi. Vi leggo un attimo cosa dice Lieni su questo coso. Per estendere la produzione è necessario produrre anzitutto i mezzi di produzione e a tal fine occorre attrarre verso di essi gli operai che già cominciano a chiedere anche beni di consumo. Il consumo si sviluppa pertanto sulle orme di un'accumulazione e sulle orme della produzione, per quanto ciò possa sembrare strano nella società capitalistica, non potrebbe accadere diversamente. Nello sviluppo di questi due settori della produzione capitalistica non solo non è obbligatoria l'uniformità, ma al contrario è inevitabile la mancanza di uniformità. Nel volume complessivo della produzione capitalistica i prodotti per il consumo individuale occupano un posto sempre minore. Ciò corrisponde pienamente alla missione storica del capitalismo e alla sua specifica struttura sociale. La prima consiste appunto nello sviluppo delle forze produttive della società, la produzione per la produzione. La seconda esclude la loro utilizzazione da parte della massa della popolazione. E lo vediamo, c'è sempre di più un'accumulazione di ricchezza in pochi e il poverimento di molti. Mi lascio con questa riflessione. Degli studenti ne parleremo la prossima volta, perché è molto importante anche cosa dicono gli studenti. Anziché denunciare lo sfruttamento, di abituarsi a lavorare a zero lire, perché poi è questo. Vanno a chiedere il diritto allo studio, invece di chiedere l'abolizione di questo modo di produzione. Perché poi se vuoi fare il lavoro per cui hai studiato, facciamo un esempio, se studi il marketing, cosa fai? Vendi, studi il modo per influenzare o influire sulle menti dei consumatori a comprare quel prodotto, non importa se è buono o non è buono. Questa è la tua funzione. Vogliamo questo o vogliamo una società completamente diversa. Ecco anche voi studenti, se ce ne sono in ascolto, fate una riflessione su questo. Ciao a tutti e ci vediamo fra 15 giorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.